L'idea è nata un po' da quello che nell'ultimo anno ha caratterizzato, mi permettete di usare il termine scaramucce tra varie categorie professionali, ignorando spesso che quello che noi abbiamo in comune tra le varie professioni sanitarie è che quanto è grande il valore dell'integrazione professionale. Per cui d'accordo con i presidenti di ordine e collegi professionali abbiamo deciso di affrontare la questione, vedete, dal punto di vista culturale in un territorio neutrale, provando anche a fare rima tra quelli che sono i due aggettivi che caratterizzano la seconda e la terza riga. Chiamo io allora a venire qua sul palco Alessandro Beux che è il presidente della federazione nazionale dei collegi professionali e tecnici sanitari, chiamo Antonio Bortone che è il presidente del coordinamento nazionale delle associazioni delle professioni sanitarie, chiamo Roberta Chersevani che è la presidente della federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, chiamo in sostituzione della presidente Barbara Mangiocavalli, Beatrice Mazzoleni che è segretario nazionale della federazione nazionale dei PASVI e chiamo Maria Vicario che è presidente della federazione nazionale dei collegi delle ostetriche. Allora io mi sono permesso di lanciare la discussione partendo da quello che è un po' la mia materia d'origine quindi da cui sono partito. L'evidence based medicine, vedete, nasce nel 1992 come strumento per il medico. Nel corso degli anni che cosa succede è che ogni professione sanitaria si crea il suo acronimo, gli infermieri, i fisioterapisti, i farmacisti quindi di fatto si va verso quelli che io ho chiamato acronimi campanilistici. Poi però nel corso degli anni tutti questi termini sono stati riuniti sotto quello che oggi è il termine più comune di evidence based practice cioè la capacità di tutti i professionisti sanitari di usare le migliori evidenze nella pratica clinica indipendentemente da quale sia la categoria professionale a cui appartengo. Devo dire che a questo abbiamo dato un grosso contributo anche con il lavoro che abbiamo fatto con il gruppo internazionale che vedete parte proprio da questo Sicily Statement che allora nel 2005 non fu chiamato sull'EBM, sull'evidence based medicine ma sull'evidence based practice proprio a sottolineare l'importanza della multiprofessionalità. È stato standardizzato un curriculum ad hoc. La seconda cosa, si parla tantissimo di linee guida nel corso di questi ultimi mesi, gli strumenti che valutano la qualità delle linee guida e pongono come uno degli elementi fondamentali la multiprofessionalità del gruppo che ha prodotto la linea guida dove ci devono stare tutti quelli che si occupano della problematica trattata dalla linea guida indipendentemente da quale sia il loro ruolo professionale, il loro ruolo professionale specifico. E visto che il risk management è un'altra delle strategie di governo clinico molto più utilizzate, sempre più utilizzate nelle organizzazioni sanitarie, guardate che l'OMS ha pubblicato poco tempo fa, vedete questa guida al curriculum per la sicurezza dei pazienti, sottolineando che è una guida multiprofessional, quindi che non ci sono elementi che vanno a caratterizzarne le competenze per il medico, per l'infermiere, per l'ostetico, sono argomenti che riguardano tutti i professionisti sanitari. Allora io parto con la prima domanda che vuole essere provocatorio da un lato ma costruttiva dall'altro. Perché in tutti i dibattiti pubblici, in particolare quelli dell'ultimo anno, che mettono le professioni sanitarie alla fine l'un contro l'altra armata, perdendo di vista quello che è l'obiettivo principale, non si riesce mai a ripartire da quello che è il valore dell'integrazione multiprofessionale per i pazienti ma anche per la società. Perché ovviamente in tutte queste discussioni che facciamo andiamo ad alimentare molti di quegli sprechi legati anche al mancato coordinamento tra varie organizzazioni sanitarie. Da dove parto? Parto da Antonio, quindi non me ne vogliate, non do preferenze a nessuno, quindi una volta parto da qua, una volta da qua. Vi chiedo di essere lapidati e poi ci torniamo perché deve essere una cosa molto molto ben discussa. Prego Antonio. Grazie Nino, buongiorno a tutti. Una volta si era cavalieri, si partiva dal... Allora perché? Perché fondamentalmente partiamo perché fondamentalmente tutti noi abbiamo l'ombelico, è l'unica parte in comune anche nella differenza di genere. Qui sono accompagnato da Maria Vicario che è esperta nel settore e noi effettivamente non ci appoggiamo su aspetti oggettivi. Non partiamo dal valore della domanda ma partiamo anche in termini, abbiamo visto, di realizzazioni di strutture, di percorsi assistenziali, partiamo dal valore dell'offerta perché nell'offerta ci mettiamo una visione molto egocentrica e a volte anche autoreferenziali. Questo è il limite. Se riuscissimo invece a mettere a fuoco, anche in termini culturali e concettuali, il valore dell'efficacia in modo oggettivo e non soggettivo e quindi pro categoria, allora a quel punto avremmo sicuramente un terreno di dialogo più fertile e avremo una migliore resa e anche una migliore percezione da parte degli utenti. Grazie. Visto che ho cominciato con gli uomini, sto con gli uomini. Alessandro? La domanda ovviamente è la stessa per tutti. Speriamo che le risposte non siano le stesse. Io credo perché ciò che viene proposto oramai da molti anni, anche nella tua relazione introduttiva ancora una volta ben testimoniato, cioè l'evidence based medicine, i dati oggettivi e il metodo che è in grado di generarli, di offrirli, siano un contesto impegnativo perché negano di per sé le certezze priori e quindi se si sposa questa metodologia, ed è quello che noi sul tema qualche settimana fa abbiamo proposto anche pubblicamente, se si sposa questo tipo di metodologia bisogna accettare l'idea di partenza e di mettersi in discussione. Non avendo certezza del fatto che alla fine del percorso la professione sia ancora lì, potrebbe non esserci più, o sia ancora lì così come c'è adesso, è poco probabile che la professione sia ancora lì così come la professione in questo momento vorrebbe che ci fosse. Capite che di fronte a questo tipo di incertezza ci vuole non tanto coraggio, ci vuole senso civico, ci vuole la capacità di partecipare alle dinamiche con quello spirito di servizio e del sistema sanitario nel contesto all'interno del quale io mi legittimo e che posso violentare affinché io possa legittimarmi, è il contesto all'interno del quale se ho un'utilità io mi metto a disposizione. Permettimi di fare un batti e ribatti, quindi tu dici, noi vogliamo come categorie professionali spesso mantenere attraverso le rigidità, chiama le cooperative, chiama l'organizzativa o quant'altro, e non adattarci a quella che invece è la flessibilità che richiede un'area che è in continua evoluzione tecnologica, organizzativa, manageriale e quant'altro. Quindi cerchiamo di mantenere posizioni, non riusciamo a sportarci da questo impasse e non riusciamo poi a sfruttare quello che è il valore dell'integrazione. È così. Bene. Torno dall'altra parte. Maria Vicario, Presidente del Collegio Stetri. L'integrazione per noi è un po' particolare perché noi ci rapportiamo nel rapporto one to one con la donna. Spesso, lo abbiamo visto con la pubblicazione recente del decreto legislativo 15, viene interpretato questa autonomia come voler essere superiore a qualcun altro. No, noi vogliamo e proviamo questa difficoltà a dimostrare che questa professionalità da sempre si relaziona invece con altri. Anche perché abbiamo un percorso che è perinatale. Non si può non integrarsi con altri operatori. Insomma, con i ginecologi fate fatica voi, voglio dire, a integrare. Ma devo dire, io sono tanto anziana da dover dire che sono cresciuta con ginecologi che sono cresciuti con me. Oggi siamo della stessa età e abbiamo vissuto momenti diversi. L'ostetrice è cambiata. La nascita ha subito un processo epidemiologico legato all'età della donna, alle tecnologie che si sono sostituita alla semiotica classica, quella clinica, dove le mani, le orecchie, gli occhi, l'odorato erano tutto quello di cui si disponeva. Oggi abbiamo aggiunto la quinta manovra di Leopold alle quattro. Ma non è che abbiamo necessariamente bisogno delle ecografie per dire se c'è una proporzione o sproporzione fetopelvica e non arrivare ad esiti in fausti, quelli ai quali facevi riferimento. Quindi per noi è un po' particolare questa multiprofessionalità. Vorremmo dimostrarlo soprattutto per lo spunto che tu ci hai dato, quando hai detto utilizziamo bene le risorse. Lo hai anche detto tu nell'ultimo riferimento al NICE. utilizziamo le risorse professionali nella misura adeguata. Potremmo probabilmente portare risorse verso altri... Su questo ci torno nell'ultima domanda perché ti ho preparato una cosa d'occhio. Beatrice. Sì, è inundibile che c'è probabilmente una base dello strato di interessi, ma questo credo che sia nel genere umano. Dall'altra parte però come professione, ma anche da diversi punti, dalle diverse professioni sanitarie in toto, c'è ormai un'attenzione rispetto alla produzione di dati e a quella che può essere una specificità. Nel senso, prima mi sono presa degli appunti perché l'intervento che dicevi sugli interessi di categoria, integrare le competenze, sostenere lo sviluppo è quello che ci diciamo da tempo e quindi nel tuo riassunto assolutamente hai preso il punto in questione. Il fatto è che per arrivare a questo bisogna partire da dei dati, bisogna partire da una riorganizzazione assolutamente efficace ed è quello su cui stiamo ragionando. La produzione di dati c'è, la produzione di modelli organizzativi nuovi c'è ed è quello che anche in altre situazioni, mi permetto anche con la Presidente Kersevani si è detto, è che nella realtà ci sono già delle situazioni attuate di modifiche, di risoluzione risoluzione almeno parziale di quei famosi sprechi che è uno zoccolo duro nella nostra realtà e quindi anche semplicemente, se posso permettermi, essendo in un altro ruolo intellettuale però dall'ultimo rapporto Oasi-Bocconi piuttosto che la ricerca Cerismas ci dà dei modelli organizzativi, dei dati quantitativi di risparmio e di efficienza sugli outcome dei pazienti e sempre rispetto ai dati è una collaborazione che come i PASI abbiamo messo in atto anche con Agenas con un protocollo di intesa, proprio per arrivare a una collaborazione strutturata dei risultati e quindi l'obiettivo è questo. Chiudiamo il primo giro, Roberta. La domanda è sempre la stessa, non si è diluita nel corso delle risposte. Grazie. La domanda parla di dibattiti pubblici e di l'un contro l'altro armati ed è lì che vorrei un attimo rapportarmi. Alla fine noi ci si incontra non in un forum o in un agorama, in un'arena dove sembra che qualcuno voglia far scorrere sangue, che è inutile, dove ci sono soggetti un attimo più aggressivi, dove ci sono delle corsi in avanti, dove si perde molto probabilmente il senso della realtà e dove si perde l'idea che il centro è sempre il paziente. Io ringrazio Nino per questa occasione, è la prima volta che partecipo a un suo congresso, ma lo ringrazio perché quando ha telefonato parlava di un ambiente neutro, ed è giusto, dove non c'è il giornalista d'assalto, l'opinionista o comunque qualcuno che ha qualcosa da giudicare sul nostro operato senza fare il nostro lavoro. E quindi quello che sarebbe giusto è che effettivamente queste persone che sono adesso qua, ma potrebbero essere anche altre, abbiano la possibilità di reincontrarsi cercando di riproporre in un incontro quella che è la realtà a cui faceva riferimento Beatrice, quella che è la realtà del nostro lavoro quotidiano, dove io sono stata radiologa e dove non c'è mai stata guerra, dove c'era una grande collaborazione, dove ognuno sapeva quello che doveva fare, come lo doveva fare nella sua posizione, senza contrapposizioni perché comunque le regole venivano seguite. Però tu mi leggi nel pensiero perché questo è il primo, è la prima delle proposte che noi facciamo alle professioni sanitari, quindi è il primo seme che lanciamo, ma c'è dietro un pensiero che vuole coinvolgervi tutti in questo confronto culturale uscendo fuori da quelle che sono un po' le discussioni. Quindi spero che voi accettiate con... Io sono disponibile. Bene, allora vado alla seconda domanda. Avete visto che la carta Gimbe che vi è stata distribuita all'interno delle vostre borsine è diventata, gli articoli sono diventati tutti delle schedine colorate, le abbiamo messe tutte insieme. L'articolo 22, lo leggo, dice questo, la salute delle persone deve essere obiettivo primario di ogni forma di associazione professionale, società scientifiche, ordini, collegi, sindacati, quindi questi se si associano lo fanno perché c'è un bene ultimo che è la salute delle persone. Trasformando le innumerevoli corporazioni competitive nei nodi di un network collaborativo. Allora che cosa abbiamo fatto? Abbiamo provato a estrarre diciamo quattro pallettoni colorati e a oggi ci risultano 619 tra ordini e collegi professionali, oltre otto federazioni nazionali, più di 600 società scientifiche nazionali, più di 1.003 se andiamo a includere tutte le sezioni regionali, 22 sindacati, 70 includendo le sedi regionali e poi, questo è l'arena poi Roberta, 21 regioni, 153 ASL, forse in riduzione visti i grandi accorpamenti che ci sono in progress, e 1.822 strutture di ricovero. Tutti questi sono regolamentati da che cosa? Da propri documenti. È ovvio che i codici deontologici riguardano gli ordini e i collegi, gli statuti sono il documento di riferimento delle società scientifiche, per i sindacati oltre gli statuti la tutela specifica degli interessi del lavoratore e la rappresentatività e poi abbiamo la parte organizzativa dove ci sono 21 piani sanitari regionale e provinciale, 21 sistemi di accreditamento diversi, gli atti aziendali dell'azienda sanitaria, gli accordi sindacali. Allora la mia impressione è che tutto questo invece di creare una sana integrazione con tutti questi numeri crea una sorta di intrecce, di incroci considerando anche i numeri assoluti per cui non se ne viene mai fuori. Allora volendo essere anche un po' provocatorio con questa domanda non posso non richiamare che alla fine tutta questa storia di tutte queste innumerevoli organizzazioni professionali alla fine che cosa fa? Permette di attuare a quella strategia che è nota dai tempi dei romani che vedete che per controllare e governare un popolo è quello di dividerlo o provocando rivalità e fomentando discordi. Io da organizzazione indipendente nel corso dell'ultimo anno mi sono fatto un po' questa idea che di fatto molto di questo avviene perché si è in troppi, addirittura l'altra volta quando doveva esserci la riunione al ministero i sindacati non ci sono andati perché ci dovevano andare tutti e non c'era manco lo spazio fisico per poterli accogliere. Allora ripeto permettetemi di essere provocatorio anche con questa domanda, questa estrema frammentazione delle categorie professionali che oggi è presente in Italia come la possiamo ridurre? Dico ma ci servono veramente tutti questi ordini, tutti questi collegi, tutte queste società scientifiche perché poi alla fine ognuno di questi ha il presidente, i consiglieri, i segretari, il collegio dei propri viri, questa è tutta attività, l'oveglio che inevitabilmente finisce per sottrarre tempo e risorse indipendentemente da quella che è l'attività a quella che è l'organizzazione quotidiana. Allora questa volta Roberta parto da te quindi faccio il giro al contrario. Dico riusciamo nella logica comunque complessiva, c'è la possibilità di ridurla non tanto in senso fisico ma anche in termini voglio dire anche di decisione, di prezzi e di posizione, di riferimento di istituzione per la politica perché oggi i medici lamentano che la politica non li ascolta ma spesso io ho sentito i vertici politici dire ma con chi dobbiamo parlare? Cioè perché guardate quanta gente c'è, è molto difficile capire con chi si deve parlare. Roberta? Noi siamo un popolo fatto di tanti tanti individualisti, l'altra sera ero a cena con un amico che fa l'insegnante in Norvegia, diceva singolarmente questi giovani, credo sia una scuola superiore, singolarmente questi giovani appaiono poco però quando si tratta di fare gruppo, di fare classe sono molto coerenti, molto decisi, molto uniti e alla fine non ti accorgi se uno è un po' più intelligente, un po' meno intelligente perché esce il gruppo che è compatto. Se noi riuscissimo a fare altrettanto nei nostri ambiti sarebbe perfetto perché ci sarebbe sicuramente una maggior capacità propositiva, una maggior capacità di essere ascoltati, una maggior individuazione del soggetto che va avanti e che porta le proposte. Chiaramente non sono io che posso snellire questo aspetto del nostro paese, ricordo che quando abbiamo fatto qualche mese fa gli stati generali dove stavamo ad esprimere la preoccupazione del medico ma soprattutto la preoccupazione del medico nei confronti del proprio assistito avevamo adoperato come visual, come logo, un'immagine dell'Italia frammentata, un puzzle con tante piccole tesserine del puzzle colorate, bello esteticamente ma drammatico dal punto di vista delle differenze che ci sono. Anche perché alla fine quando uno fa il puzzle riesce a creare una unitarietà ma in questo contesto le tessere non si incastrano perché sono troppo diverse una dall'altra. Io non ho proposte da fare, c'era nel cassetto di qualche politico qualche anno fa l'ipotesi di fare a meno degli ordini professionali, non lo so per quale motivazione, però era un'idea che evidentemente voleva liberarsi di una parte di questa ricchezza di presenze, ma chiaramente non potrebbe toccare tutto il resto, quindi le organizzazioni sindacali ovviamente esistono. Le società scientifiche, noi in questo momento stiamo cercando di fare un po' non di ordine ma di fare un censimento per capire, non sai dove cominciare ma arrivi a società che hanno numeri bassissimi, se ne parlava anche con Beux stamattina, quindi situazioni che sono diventate così ma non saprei da dove cominciare per cercare di diminuire per avere meno voci e voci più ascoltate ovviamente. Beatrice. Concordo col fatto che non possiamo pensare ad un'eliminazione di quella che è una rappresentatività e di quella che può essere anche una serie di specificità che sono probabilmente molto arricchenti per le diverse professioni, per il sistema e tutto. Probabilmente un passaggio rispetto alla nostra realtà dell'ordinistica magari un piccolo step potrebbe già essere la riforma dove degli ordini Emilia alza gli occhi al cielo giustamente perché è una partita che si sta giocando da tanti anni. Lì già una riorganizzazione, una ridefinizione e magari riuscire anche ad applicarlo a quello che potrebbe essere la ridefinizione degli ambiti provinciali magari si potrebbe riuscire a dare uno snellimento. Ci volevo arrivare ma me lo tiri dalla bocca, se le province le aboliamo. Ma mi sembra abbastanza lineare, poi bisogna ragionare anche sulle specificità territoriali, non sono tagli netti lineari come invece sono stati fatti e come tu invece hai dimostrato. Probabilmente però questa specificità e ricchezza delle associazioni, dei sindacati o quant'altro probabilmente bisogna ragionarla e partire da quello che dicevamo prima che se tutti andiamo a dialogare su dei tavoli condivisi ma partendo dalle evidenze e partendo da dei dati vengono messi automaticamente da parte quelli che sono dei singolarismi, dei campanellismi. Datti e metodo perché altrimenti non se ne viene più. Bisogna dare un metodo, bisogna dare un metodo strutturato in modo che è logico poi che usciranno dei risultati che vanno sul sistema e sul cittadino, quindi dare un metodo assolutamente necessario. Maria. Noi viviamo sempre un poco eccezionali le ostetriche, in tutta Italia sono 71 i collegi perché molti hanno già fatto quell'operazione di aggregazione, abbiamo collegi interprovinciali che hanno unito anche 4-5 province, questo nell'ottica di cercare di offrire un miglior servizio all'iscritto innanzitutto e l'iscritto poi alla trasparenza delle proprie attività. Lasciare sicuramente inalterate quelle che sono le altre componenti, lì nessuno le può toccare altrimenti non ci sarebbe pluralità di confronto. Auspicare una riforma degli ordini probabilmente, visto che io l'ho vissuta da Presidente nel 2007, qui c'è presente Angelo Mastrillo, eravamo al tavolo quel famigerato 2007, tutta la croce sulle ostetriche perché pare che siano state loro la causa di non aver, ma era già nell'area che tutto dovesse arrivare invece al naturale morte della legge delega. Questo è un film già visto, quindi non mi dite quello che non vedrò mai, forse finisco la mia presidenza ma non vedrò questo. Quello che invece si potrebbe fare probabilmente, e questo è una cosa che la Federazione Nazionale Ostetrica ha in mente di mettere in atto di qui a brevissimo, quello di chiamare nella sede madre le poche società scientifiche, ne abbiamo solo tre, sono la Sirong, Sirio e Aio. Questo perché? Perché nel momento in cui ci si interfaccia su tematiche trasversali però fondamentali per la professione, allora questi in modo inderogabili devono essere condivisi a livello centrale. Poi ognuno fa il suo arricchimento, si dirige in un settore piuttosto che un altro ma senza derogare da una linea di principio. Questa è un'operazione che la Federazione sta già facendo. Solo ovviamente per quanto riguarda per le ostetrie, quindi non pensate a un network che includa anche le società di ginecologia che sono circa 44-45, quindi parliamo di numeri molto più alti. Già arrivare a questo e portare le tre società scientifiche alla casa madre sarebbe una cosa importante. Sicuramente. Non me ne voglio Alessandro, visto che il microfono c'è là, poi gli uomini voglio dei complimenti, non ve le fate dopo. Antonio. Sì, in realtà io dovrei parlare per ultimo perché dovrei dire ma di cosa state parlando? E in che senso? E lo dico proprio con un'affermazione provocatoria perché noi nei numeri che hai dato Nino non ci siamo. Nei 618 ordini e collegi noi non siamo presenti. E per dirla tutta fino in fondo probabilmente siamo 19 professioni con 25 sigle disordinati perché siamo gli unici ad avere ancora le associazioni rappresentative ma forse rappresentiamo l'ordine del futuro perché in controtendenza noi ci siamo aggregati, oggi parliamo con voce unica, non portiamo interessi particolari, perché parte il CONAPS per tutti. Esattamente e questo è un punto di forza ed è nato proprio sulle ceneri dell'effetto delega che morì e da allora in avanti abbiamo detto si deve cambiare strategia perché se dovessimo ognuno di noi individualmente portare le proprie istanze anche volendo portare le sole rispettive società scientifiche se tre per una categoria moltiplichiamo per tutte le categorie professionali avremo comunque dei numeri ingestibili. Allora fare sistema significa anche fare sistema sul piano concettuale, culturale, anche adottare un momento formativo congiunto, un codice deontologico unico perché davanti a sistemi oggettivi quale può essere la responsabilità professionale e soprattutto la responsabilità che noi abbiamo nei confronti del cittadino non c'è categoria che possa sentirsi di più o di meno davanti a questo processo che è assolutamente oggettivo e come tale comune per tutti. Ti merita l'applauso della SAI. Alessandro chiudiamo il giro. Tocca a me. Recupero le parole di Antonio. Allora intanto i dati che hai presentato sono la drammatica testimonianza di come ci sia una separazione netta tra le intenzioni dichiarate, la condivisione su ciò che dovrebbe essere e ciò che invece è. Allora dove potrebbe essere il bias? È che ancora troppe persone pensano che la realtà debba necessariamente cambiare ma attraverso lo sforzo degli altri e se tutti pensano in questo modo continuiamo a dirci che le cose dovrebbero essere diverse rispetto a ciò che sono oggi però poi stando tutti fermi e continuano a rimanere così come lo sono. Io non sono d'accordo con la dottoressa Kersevani perché ha detto io non ho soluzioni. Secondo me ognuno di noi ha la possibilità di individuarne e proporne qualcuna. Noi laddove abbiamo ritenuto di poterlo fare l'abbiamo fatto senza risultati concreti però ci siamo messi a disposizione. Le professioni sanitarie sanno bene che da qualche anno il sottoscritto è la nostra professione in modo particolarmente intenso. Dice attenzione guardiamo prima ciò che ci unisce piuttosto che a ciò che professionalmente ci divide proprio per creare un'identità culturale valoriale comune all'interno della quale poi ognuno continuerà a fare il tecnico di neurofisiopatologia, il tecnico di radiologia e l'infermiere professionale. Questa è una dimensione diciamo delle professioni sanitarie. Per quanto riguarda la dimensione ordinistica che è l'unica sulla quale abbiamo la possibilità di muovere qualche leva. All'interno al Consiglio nazionale in modo molto determinato abbiamo suggerito la costituzione pur non potendolo pretendere perché la norma non ci consente di pretendere, suggerito la costituzione di collegi regionali. Tant'è che il possibile punto di mediazione è nelle regioni più grandi geograficamente in termini di popolazione un paio di collegi. Non possiamo imporlo però se ci fosse una condivisione diciamo di tipo concettuale faremo già un passo. Da 67 arriveremo a 20. E poi, e qui è buona testimone la senatrice Emilia De Biasi, noi abbiamo messo a disposizione il nostro collegio professionale alle 19 professioni che non hanno ordine. Quindi non abbiamo avuto nessuna difficoltà culturale a dire... Non ci interessa l'ordine dei tecnici di tecnologia, ci interessa un contesto ordinistico che sia partecipato perché quella partecipazione, lo dicevo stamattina a dottoressa Carsevani, non ha solo una valenza quantitativa che è quello che meno ci appassiona e che stando insieme siamo certi, non sappiamo dove, come, quando, ma siamo certi che ne beneficeremo tutti quanti. Questa disponibilità l'abbiamo consegnata anche alle istituzioni. Grazie. Io mi permetto solo di fare una domanda con risposta lapidaria, sì forse no, a chi in questo momento dirige federazioni nazionali. Possiamo immaginare in un arco temporale non necessariamente brevissimo, uno o due anni, ma tre o cinque anni, a un progressivo accorpamento di ordini provinciali versus entità regionali o comunque aggregate, proprio per ridurne il numero. Risposta lapidaria, Maria, sino forse, ostetriche. Sì perché dicevo prima questo migliora l'offerta all'iscritto, forse con qualche resistenza, lo stiamo già vivendo perché aggregarsi vuol dire anche avere un bilancio in pari, non ci si può aggregare avendo dei debiti e soprattutto avendo di proprietà fisiche degli immobili senza averne poi dato. Quelli poi sono aspetti amministrativi. Però sono importanti che ti portano poi alla decisione. La volontà di cominciare ad aggregare e a ridurre il numero di quell'entità. C'è o non c'è? Sembra di sì. Beatrice. È già previsto come federazione da circa dieci anni abbiamo cominciato a regolamentare, l'ultimo regolamento è stato emanato cinque anni fa, adesso in via di revisione sui coordinamenti regionali, proprio riconoscendo l'interlocuzione a livello regionale, quindi già c'è in continua e oltretutto evoluzione. Roberta, devi chiudere tu. Nella nostra datata legge istitutiva non erano previste le federazioni regionali che la gran parte invece sono state realizzate nelle diverse regioni, ma non vedo che la federazione regionale poi elimini quello che è il ruolo, la presenza, la realtà dell'ordine provinciale. Quindi in questo senso finiremo quasi con l'aumentare il numero invece. La mia domanda è riduciamo quelli provinciali per andare verso aggregati regionali. Esatto, questo però finora non è nei programmi. Allora questo è il regolamento sugli standard ospedalieri che è il documento pubblicato in gazzetta ufficiale il 4 giugno dello scorso anno che traccia per le regioni quali sono le linee di programmazione per la riorganizzazione della rete ospedaliere e anche l'integrazione con il territorio. All'interno di questo documento c'è scritto, c'è un sottocapitolo che si chiama vedete le reti ospedaliere dove si legge che all'interno del disegno globale della rete ospedaliera è necessaria l'articolazione delle reti per patologia che integrano l'attività ospedaliera per acuti e post acuti con l'attività territoriale. Il documento fa riferimento a 10 o 11 in rete, adesso non le ho contate ma lo potete fare voi per me, declinando soltanto i criteri organizzativi per quelle in grassetto, traumatologiche, infarto, ictus ed emergenza e urgenza e per le altre invece ne invoca la realizzazione all'interno delle singole regioni. Quindi questa è la strada verso dove si sta andando. Entrare in lottia che non tutti possono fare tutto ma bisogna condividere strutture, tecnologie, competenze professionali per erogare quei percorsi assistenziali basati sulle evidenze e centrati sul paziente. Sapete bene che uno dei modelli classici con cui questo viene attuato è il modello ABESPOC dove presso un centro di riferimento vengono erogate delle prestazioni ad elevata complessità perché strutture e tecnologie non si possono spostare e nei centri periferici poi vengono erogate delle prestazioni a minore complessità. Tutto questo però è il cosiddetto modello ABESPOC di tipo statico dove ognuno in termini professionali lavora a casa sua. Questo modello non può funzionare, il modello che può funzionare è l'ABESPOC di tipo dinamico dove se il chirurgo lavora nel centro AB ma è professionalmente esperto e può prestare la propria opera professionale, scusate, lavora nel centro SPOC quindi sta in periferia e può prestare la propria competence professional nel centro AB indipendentemente dalla struttura di appartenenza questo dovrebbe farlo in quell'ottica dei percorsi assistenziali integrati. Quindi questa movibilità di professionisti e pazienti rende il modello ABESPOC da statico a dinamico e ne facilita tutta una serie di articolazioni organizzative e di tipo pratico. Ho ripreso anche un altro articolo della carta Gimbe che dice la riorganizzazione dei servizi sanitari deve prevedere modelli sovra aziendali quindi che vanno oltre l'azienda sanitaria per condividere percorsi assistenziali, tecnologie e attenzione questa è la cosa più importante dell'ultimo punto, risorse umane. E altro articolo questa dicotomia ospedale territorio dobbiamo provarla a superare in maniera definitiva perché cerchiamo di integrarle da 25 anni non ci siamo mai riusciti quindi parliamo di riorganizzazione integrata che forse magari arriviamo al risultato più concreto. Con una variabile articolazione di setting assistenziali per intensità di cura e attenzione perché siamo il secondo paese per oltre 65 anni in protezione 2050, modalità avanzate di integrazione socio-sanitaria. In tutto questo torna quella figura che vi ho fatto vedere questa mattina un po' rapidamente, vedete che l'area ospedaliere e l'area territoriale con in mezzo il concetto della transitional care dove il paziente in funzione dei suoi bisogni di salute si sposta da un setting all'altro e viene assistito ovviamente da professionisti che lavorano spesso in strutture sanitarie differenti quindi dove ci sono ostacoli di altra natura. Allora se è vero come dovrebbe essere rispetto ai principi della medicina dell'assistenza sanitaria basata sull'evidenza che le competenze e le responsabilità di tutti i professionisti sanitari si devono integrare in questi percorsi indipendentemente dal fatto che siano ospedalieri territoriali integrati quindi che sta veramente il paziente al centro perché altrimenti il concetto di centrato sul paziente diventa uno slogan senza contenuti assolutamente concreti. La domanda è questa riprogrammazione sanitaria che è imponente perché riorganizzazione degli ospedali, riforma delle cure primarie, parlo del patto per la salute quindi si sta cercando di riorganizzare i servizi per ridurre gli sprechi e migliorare il coordinamento. Ma questa riprogrammazione sanitaria che è indispensabile per disinvestire da sprechi in efficienze è compatibile con le normative vigenti e con i contratti di lavoro? Cioè io vedo tanti direttori già in aula, un percorso interaziendale dove vi si chiede che il vostro chirurgo piuttosto che il vostro responsabile infermieristico vada a prestare un certo numero di ore in un'altra organizzazione sanitaria, si può fare, non si può fare perché non vorrei che le leggi dal punto di vista della riorganizzazione siano state scritte in maniera ineccepibile come lo sono anche dal punto di vista proprio del concetto di evidence based health care però non avessero fatto i conti col fatto che molti percorsi interaziendali non sono applicabili perché ci sono delle normative che vanno in contraddizione e poi alla fine anche dal punto di vista sindacale non è possibile attuare determinati tipi di percorsi. Rifaccio il giro al contrario, stavolta parto da Beatrice, allora dobbiamo fare questi benedetti percorsi che stando a quello che dice la legge sono anche interorganizzazioni, come la mettiamo con normative e contratte di lavoro? Allora diciamo che un quadro normativo che contenga quelle che sono le possibilità di modifica di riprogrammazione sanitaria ce l'abbiamo, abbiamo una situazione che ci può contenere, ci può dare la possibilità di spostarci, di riprogrammarci e di ridefinirci con diversi punti di normative che sono venute in modo importante negli ultimi 15-20 anni. Forse il problema più importante in questo momento, visto che siamo anche nel periodo di piattaforme contrattuali, è ragionare su quello perché il quadro normativo rispetto alle professioni, rispetto alle organizzazioni ne abbiamo un vantaggio veramente importante e si può ragionare, ci sono infatti delle realtà organizzative che le hanno messe in atto. Il problema è il riconoscimento e l'incardinamento contrattuale di queste situazioni, dove ormai le riorganizzazioni vengono fatte praticamente sulla buona volontà dei professionisti, si spostano, si muovono, portano competenze, definiscono nuovi percorsi, accompagnano i cittadini ma basati sulla buona volontà sia dai direttori sia dai professionisti. Tu dici all'interno dell'atto aziendale, piuttosto che della riorganizzazione aziendale, questo si può fare o non si può fare in funzione della sensibilità dell'organizzazione sanitaria. Dal punto di vista del contratto però bisogna fare una rivalutazione di quelli che sono i possibili percorsi. Ma infatti la domanda vuole essere provocatoria in questo senso, adesso do la parola a Roberta, non si potrebbe approfittare di questo momento di riorganizzazione per rivedere una serie di aspetti contrattuali critici e andare in quella direzione, perché il rinnovo delle convenzioni per le cure primarie non mi pare che stia andando rispetto a quello che vogliono i medici di famiglia in questa direzione, sta andando in tutta altra direzione, quindi non vorrei che parliamo di riorganizzazione dei servizi e poi ci mancano gli appigli contrattuali per andare poi ad attuarli. Roberta, questo è un aspetto molto critico dal punto di vista della riorganizzazione. L'aspetto è molto critico e forse la domanda non va rivolta all'ordine o al collegio ma va rivolta a chi ha la possibilità di attuare questi percorsi, quindi va rivolta E fare emergere attraverso voi questo tipo di richieste. E fare emergere attraverso noi coinvolgendoci e non ascoltando ma sentendo quelle che possono essere le proposte. Questa è una richiesta che stiamo portando avanti da tempo per essere collaborativi, per proporre dei tavoli che in qualche modo facciano sentire la voce di tutti quanti, non abbiamo il potere noi di fare il percorso. E' difficile ma al momento è giusto perché se si riparte con i vecchi sistemi cercando di arrivare a una programmazione nuova, il rischio è un momento dove c'è il rinnovo contrattuale, stiamo riorganizzando, allineiamoci con quelli che sono i contratti lavorativi. Però partiamo tenendo conto delle esperienze positive e negative che ci sono state ma non trasciniamoci dietro fardelli che poi ci appesantiranno e finiremo con l'essere esattamente come eravamo prima. Quindi questo è un rischio, questo è un rischio. Grazie, Alessandro. Sì, concordo, è un'opportunità. Non abbiamo la possibilità di intervenire direttamente questa volta però abbiamo la possibilità e noi l'abbiamo fatto di sensibilizzare le organizzazioni sindacali e gli altri interlocutori che hanno la facoltà di intervenire per appunto cercare di allineare ciò che è la norma da una parte, la formazione dall'altra, i bisogni mutati o nuovi. Le nuove modalità organizzative pensate per rispondere a questi mutati o nuovi bisogni sociosanitari possano essere accompagnati da una dimensione contrattuale che ad oggi in realtà non solo non favorisce ma in alcuni casi ostacola. Ci sono diversi buchi, adesso che stiamo cominciando ad approfondire la questione rispetto alle reti, alle attività interaziendali, ci sono diversi buchi contrattuali che non sono pochi. Tu sai che io vengo da una grande azienda, quella che forse in termini quantitativi è diventata la più grande azienda del paese, l'azienda ospedale universitaria della città dell'Istituto della Scienza, ne parlavamo anche ieri sera a cena, per due anni noi siamo stati una denominazione, un'estensione dell'indirizzo di posta elettronica, i timbri, la carta intestata ma nulla di più, le difficoltà principali di integrazione erano proprio le diverse valenze contrattuali di quelle che erano aziende e sono diventate presidi di un'unica azienda. Ieri sono arrivata più tardi perché come federazione Ostetric siamo intervenuti sulla questione dei tagli cesari in Campania, visto che nessuno prendeva per mano questo cavallo impazzito abbiamo chiesto al governatore De Luca di poter attivare una task force coinvolgendo i collegi, i cinque collegi della Campania, abbiamo anche la stessa nota inviato a Topo che è il presidente della commissione sanità della regione Campania, ma ce lo saremmo aspettato, io ora alle tre siamo stati auditi, che cosa dire? Dire che è vero che c'è un piano sugli standard ospedalieri che è del 2015, ma è anche vero che c'è qualcosa di molto più remoto del 2010 che sull'accordo Stato-Regione e non parliamo di qualcosa di completamente poco importante, insomma parliamo della nascita, la nascita sono i futuri cittadini, quindi noi dovremmo rispetto a quelle poche nascite che ci sono, perché ormai ne abbiamo perso 15.000 nell'ultimo biennio, dimostrare che siamo in grado di preservare la salute materno-infantile ma nei migliori modi, quindi tu parlavi di valutazione della rete, la chiusura dei punti nascita al di sotto dei 500 sta diventando una drammaticità, abbiamo chiesto al ministro Lorenzini di entrare nel comitato percorso nascita nazionale, ci siamo riusciti con un decreto datato 11 novembre 2015, ma non c'è un disegno nazionale, allora dicevo ieri in audizione, se non c'è un disegno nazionale non so quanti altri disegni, ne dovremmo avere altri 21 a livello regionale, quindi sarebbe opportuno che laddove si va a fare programmazione lo si vada a fare su effettive valutazioni di quelle che sono le potenzialità dell'offerta dei servizi ai quali tu facevi riferimento, ma soprattutto all'ultimo dei sei punti che tu hai citato, la organizzazione di questi servizi. Antonio, chiudo il giro, poi facciamo due considerazioni finali. Sì, veramente due battute finali, allora innanzitutto sull'aspetto contrattuale è uno... Anche perché i contratti che tu rappresenti sono tantissimi, rispetto a quelle che sono tutte le professioni che stanno nel CONAPS. Ma è proprio per questo, per non entrare nel dettaglio, vorrei fare un discorso più di macro sistema, ovvero per poter cogliere questa stagione, questo momento così propizio come tu lo definivi e farla diventare veramente un'opportunità dovremmo emanciparci da ciò che è vecchio, da ciò che è antico, da ciò che ormai è desueto in termini proprio concettuali, ovvero il contratto ha una struttura ormai datata, scaduta, sorpassata. Nel momento in cui ha una distinzione dicotomica, dirigenza comparto e un accesso in ruolo completamente differenziato a parità di condizioni di requisiti posseduti dal punto di vista della titolarità, dell'autonomia e delle responsabilità, allora comprendi bene che stiamo parlando di uno strumento che ormai non è più in commercio, ecco se lo dovessimo concepire oggi, appunto, e allora dovremmo fare questo salto, questo salto, questo coraggioso salto in avanti, guardare lo sviluppo e guardare soprattutto un contratto come una reale piattaforma per il futuro. E una ultima battuta, concedimela sulla programmazione. Allora programmazione e riprogrammazione, per poter anche qui bloccare una stagione costante di razionamento, lo dicevi tu benissimo nella tua relazione introduttiva, dobbiamo aprire una stagione di razionalizzazione. Assolutamente. E allora l'unico momento che potrebbe essere un appuntamento convergente è studiare insieme i piani assistenziali, facendoli appoggiare non sulla convenienza di parte o sulle usanze territoriali o sulle abitudini che a volte sono generatori di sprechi, ma sulle evidenze e su ciò che è efficace e in quel value, cioè proprio ciò che porta e conquista beneficio per il paziente. Allora solo in questa maniera avremo veramente una valorizzazione della, come dire, la dico come la dice la Ministra, la sanità che è plurale. Ecco il valore della pluralità. Della pluralità, dell'integrazione. Allora io mi sono permesso, un po' perché per la presenza anche della Federazione delle Ostetiche, della Roberta per i medici, di riprendere la nostra questione del percorso nascita che in questo momento è una delle più grosse criticità organizzative del Paese. E l'ho fatto riprendendo un po' quelli che sono gli elementi del programma nazionale esiti che vengono fissati le soglie rispetto ai parti cesari. Il PNE fissa una percentuale di parti cesari primari in maternità di primo livello comunque con meno di mille parti, massimo 15%, e invece in maternità di secondo livello che hanno fanno più di mille parti l'anno ho 25% perché si tratta di percentuali che ovviamente riguardano casistiche più complesse. La situazione della Campania è un dramma. Questo è il fondo del barile delle performance sulla percentuale dei parti cesari di tutte le strutture sanitarie. Vedete che 2, 4, 6, 8, 10, 9 su 10 riguardano la Campania, con delle percentuali che definirle bulgare è quasi un eufemismo. Però la cosa che non è accettabile al di là di un percorso di riorganizzazione è che ci sia un'intervista su un quotidiano nazionale al primario di questa clinica che si chiama Villa Cinzia dove lui dice che troppe parti cesari in Campania è un primato positivo altro che maglia nera. Cioè lui sta guardando come arrivare al 100% di quel 95% che sta facendo nella sua struttura. Allora ecco proprio qua ho voluto ritagliare diciamo la prima affermazione. Si tratta di un primato positivo altro che maglia nera. Il parto cesario è un vantaggio e non è una sicurezza per il nascituro e per la mamma. Voglio dire questa persona è un professionista, è un medico che ha scritto in ordine professionale, ha una sua società scientifica ma questo mina ha la credibilità della riorganizzazione del percorso nascita. Allora da dove dovremo ripartire? Da dove dicevi tu Maria? Allora noi oggi ci stiamo dibattendone nel percorso nascita con due grosse criticità. Una è quella dei cesari che ne stiamo facendo troppi e giustamente i ginecologi lamentano l'elevata percentuale di contenziosi medico-legali che indirettamente sono legati anche a manovre più invasive per ovvie necessità di costo. E l'altra è quella delle chiusure dei punti nascita che a mio avviso, e lo ribadisco qua alla presenza del senatore, è uno degli esempi più clamorosi di fallimento di accordi Stato-Regione. Cioè le Regioni qua hanno sottoscritto un accordo per chiudere i punti nascita sotto 500 parti. Non si può pensare che le politiche locali possano inibire o ostacolare un tipo di riorganizzazione che ha una rilevanza per la salute pubblica estrema. Noi abbiamo fatto questo documento nella primavera scorsa riprendendo le linee guida del NICE e riprendendo da quello che è un po' il concetto della gravidanza fisiologica e della necessità di offrire a tutte le donne la possibilità di partorire in uno dei quattro setting che dovrebbero essere presenti in tutte le regioni italiane. Il primo setting è quello domiciliare, il secondo il centro nascita cosiddetto freestanding che sta fuori dall'ospedale e a gestione ostetrica ma ha una reperibilità ginecologica in caso di problemi. Il terzo è il centro nascita che sta invece all'interno dell'ospedale e il quarto è la sala parto. Allora oggi una donna ha il diritto, e qua il problema è anche di diritti sociali, non è solo di diritti sanitari, ha il diritto di scegliere dove voler partorire. Se può scegliere il domicilio ci deve essere una rete di servizi e anche di trasporto in grado di garantirlo piuttosto che fare una gravidanza in un centro. Allora oggi noi abbiamo spostato tutto il percorso nascita sulla medicalizzazione estrema, su quell'offerta di strutture da cui non riusciamo a venire fuori. Ecco, questo è l'elemento finale che riguarda prevalentemente i medici e le ostetriche, ma è un prototipo di fallimento, di riorganizzazione voluta dalla politica. Accordo Stato e Regione siamo esattamente dove eravamo sei anni fa, da dove non riusciamo a venire fuori. Roberta, che cosa si può fare anche dal punto di vista di quello che le categorie professionali e anche la Fnomeceo in situazioni di questo tipo può mettere in campo? Sicuramente l'informazione è importante, dell'informazione che deve arrivare alle persone e alle donne. È un'informazione che richiede ovviamente tempo, che richiede competenza, che richiede capacità di dialogo e di comunicazione, facendo capire questi percorsi e facendo capire dove si vuole arrivare. Io ho vissuto la realtà della chiusura del centro nascite della mia città di Gorizia perché è piccolina e aveva un numero di nascite assolutamente basso, che è stata vissuta proprio come una battaglia, è stata vissuta con slogan, con striscioni, con drammi e probabilmente perché non c'era sufficiente informazione e non ci si rendeva conto che un minimo di viaggio per arrivare ad un'altra parte poteva essere un viaggio assolutamente positivo. Comunicazione con i cittadini è uno degli elementi fondamentali. E credo che questo possa essere il modo per poterci raccordare, per poter far capire quelli che sono i percorsi più giusti. Maria, visto che sei chiamata in causa non solo come Steteca ma anche come Campana. Io vergogno due volte insomma. Quello che però possiamo fare è quindi ritorno in applicazione dei disposti legislativi. È vero c'è l'accordo Stato-Regione del 2000 ma nel 2014 la Regione Campania ha messo fuori un decreto regionale per l'attivazione degli ambulatori di gravidanza fisiologica in tutte le strutture territoriali e ospedaliere. Sai quanti ne sono nati in Campania? Uno di cui ero io il titolare presso la Seconda Università degli Studi di Napoli. Sono andati in pensione, è stato chiuso l'ambulatorio perché non si poteva e non si voleva portare avanti questa attività perché è l'unica vera attività perché tu devi liberare i recettori delle donne da questa imbriacatura di medicalizzazione e lo puoi fare non nel momento del parto proponendo alternative come il parto in acqua, la parto analgesia piuttosto che il taglio cesare, lo devi fare prima. È un discorso culturale e quando adesso da libera professionista sono in una struttura, l'unica struttura campana che ha il più basso tasso di taglio cesare, mi riferisco alla Mediterranea, devo fare nome e cognome perché è la verità, che fa il parto in acqua, ma che fa il VBEC perché è lì la cosa. In Campania c'è un tale tasso di taglio cesare che ormai abbiamo capito che agire sul primo è difficile, sta diventando più semplice in alcune regioni, in alcuni punti nascita dove c'è il know-how, dove c'è la performance professionale, offrire invece il parto spontaneo dopo taglio cesare e queste sono solo in due strutture, fate bene fratelli, anzi tre, fate bene fratelli, Villa Betania e Mediterranei. Non è possibile superare 60 punti nascita. Concorderai con me che il problema non è l'offerta di uno specifico servizio ma è ripensare all'intero percorso nascita prevedendo tutte le possibili sedi. Ed è un discorso culturale, quindi non va nemmeno solo diretto agli operatori ma alle donne in modo particolare che devono capire che il taglio cesare non è sovrapponibile al parto spontaneo per tutti gli esiti che ormai sono più che noti. Quello anche al collega ginecologo di Napoli, questa cosa qua. Quello andava radiato secondo me. Antonio una battuta finale, poi Beatrice e Alessandro. Sei fuori diciamo dall'argomento ma il concetto è dalla politica alla pratica. Beh relativamente, ho avuto quattro figli per cui voglio dire l'ho vissuta da utente. No battute a parte, non è soltanto, questa magari è la punta dell'iceberg, ci sono altre esperienze. Una settimana fa ero a Cosenza e ci si lamentava sul territorio dell'ipertrofia della burocrazia nel passaggio, appunto nelle procedure adottate per la valutazione del bisogno in termini riabilitativi, insomma io mi occupo, sono un fisioterapista quindi mi occupo ovviamente di quell'area. Ebbene, l'unità di valutazione che non è una unità di valutazione distrettuale multiprofessionale ma è soltanto un'unità di valutazione distrettuale, c'è un fisiatra che fa la valutazione del bisogno, manda alla struttura dove c'è un altro fisiatra che deve rivalutare il bisogno. Questo è un altro spreco emblematico, ma non tanto per la categoria della specialità coinvolta, anche perché se è vero che c'è una carenza in termini di programmazione di medici, bisogna anche capire che tipo di specialità occorrano per far funzionare meglio il sistema. Noi abbiamo il neurologo che prende in carico il paziente direttamente, l'ortopedico che prende in carico il paziente direttamente e ne fa l'intervento chirurgico, un altro specialista che è il fisiatra che prende in carico il paziente per mandarlo a un altro professionista. Ecco, probabilmente bisogna ripensare l'identità delle competenze professionali razionalizzando il percorso di cura. Come si chiama questa? La sindrome di Ulisse. Perché? La letteratura la lascio a te. Si chiama così. Beatrice, battuta finale. Ma credo che le anomalie a livello organizzativo e nelle nostre professioni le abbiamo un pochino tutte. Queste non devono essere però sostenute e soprattutto strutturate. Rispetto a delle situazioni di riorganizzazione, in questa volontà che abbiamo di appunto riorganizzare in modo così importante un sistema, e io vengo purtroppo per fortuna dalla regione che si sta riorganizzando qual è la Lombardia, un passaggio fondamentale è l'accompagnamento del cittadino in questo cambiamento. Perché è un nostro alleato, non deve diventare qualcuno che è contro di noi. Ma dall'altra parte dobbiamo dare delle risorse a lui, ma per fare questo, per aiutarli devono essere date delle risorse a noi. E per concludere, rispetto anche a quello che si diceva prima sui contratti, anche lì bisogna partire da un punto zero. Non si parte da un contratto, io mi tengo quello che già avevo e da lì andiamo avanti. Perché ad esempio da quello che è stato la CN di medicina generale, probabilmente bisogna fare un ragionamento o rispetto all'accesso delle dirigenze, dove si sta proponendo le quattro aree, e la dirigenza visto che ha un potere comunque trasversale ormai, con una gestione di personale anche da parte nostra, del 60% delle risorse, bisogna dare un certo tipo di dignità e riconoscimento per aiutarci a parlare tutti negli stessi contenitori. Sono assolutamente d'accordo e ho scritto pubblicamente che l'ACN della medicina generale non è compatibile col programma di riorganizzazione delle cure primarie previsto dal patto per l'accesso. Quindi o si va da una parte o si va dall'altra. Alessandro. Noi crediamo che il tema sia fondamentalmente paradigmatico. Bisogna resettare il paradigma e costruirne uno nuovo sulla base di tutto ciò che è oggi disponibile in termini di prove di efficacia, dati oggettivi. E quindi mi aggancio a quello che ha appena detto Beatrice, non si può ripartire ponendo alla base del nuovo ciò che del vecchio ci piaceva, perché è una metodologicamente inaccettabile, non solo logicamente inconcettibile. innovation, innovazione di rottura. Non possiamo aggiustare quello che già c'era prima. Uno degli elementi sui quali insisterei, è stato detto da tutti, lo faccio per due motivi. Uno per associarmi, due per intensificare l'attenzione nei suoi confronti e il coinvolgimento delle persone. Io credo che il sistema sanitario pubblico non potrà farcela nonostante che stia facendo e farà sforzi per riorganizzarsi, riuscire a tenere con le risorse limitate, o costanti che ha, crescente domanda. L'alleanza vera è far comprendere ai cittadini che alcune volte, forse molto frequentemente, il sistema sanitario migliore è quello che gli dice no o gli dice non adesso o non questo. Perché se questo riuscissimo, e qui però c'è un tema importante che è la credibilità. Io mi metto nei panni del cittadino che si sente dire no, deve fidarsi dell'operatore dell'istituzione che gli dice di non può, sta dicendo di no perché ha bisogno di dire di sì a qualcun altro o perché non ha interesse a dire di sì a questo mio bisogno. Però questo è il tema vero, l'unico vero investimento ed è un investimento culturale, quindi dobbiamo prepararci a fare un'operazione di medio e lungo periodo. Grazie.